ciao sono rama davide ho frequentato il corso crescere imprenditori di t2i verona innovazione questo corso mi ha servito per creare un business plan ma soprattutto per realizzare un'idea che prima era solo vaga e aveva dei pensieri misti questo corso ti serve e ti aiuta a descomporre l'idea e a renderla fattibile lo consiglio a qualsiasi persona che ha una bella idea ci crede e vuole portarlo avanti ciao da davide